Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale! Questa è la patetica! Come sapete, 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 uno dei miei obiettivi entro la fine dell'anno è quello di arrivare a fare la spaccata. Perciò oggi siamo qui perché voglio mostrarvi degli esercizi per allungare bene un muscolo in particolare, ovvero quello dei femorali. Perché è fondamentale, secondo me, riuscire a fare bene lo stretching di questi muscoli per riuscire a completare il movimento della spaccata. Perciò non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere quali sono gli esercizi da andare a fare. Il primo esercizio che andiamo a fare è quello di partire da seduti, piegare una gamba e portare il piede verso la coscia come sto facendo io. Successivamente ci si sporgi in avanti cercando di tenere la schiena il più dritta possibile. Passiamo al secondo esercizio. Gambe dritte e tese davanti a noi e abbassiamo il busto. L'importante non è toccare le punte di piedi, ma avvicinare il petto alle ginocchia il più possibile. Sempre in questa posizione passiamo al terzo esercizio. Gambe tese davanti a noi, ma stavolta la schiena rimane dritta e scendiamo il più possibile rimanendo in posizione per circa 30 secondi. Passiamo al prossimo esercizio. Stavolta partiamo da distesi. Una gamba rimane tesa, mentre l'altra la alziamo e tenendola tesa la portiamo verso di noi. Per l'ultimo esercizio partiamo da in piedi. Ci accovacciamo con una gamba tesa e una piegata, come sto facendo io, e cerchiamo di raggiungere il piede della gamba tesa e tenere la posizione per 30 secondi. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi invito a controllare tutti i link che ci sono in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!